Rai, nai, 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 nai Andiamo sulla montagna camminando senza fretta Là in cima c'è un anziano medicina che ci aspetta Dove la laguna è il riflesso del tuo cuore Dove la memoria è la fiamma dell'amore Andiamo sulla montagna camminando senza fretta Là in cima c'è un anziano medicina che ci aspetta Dove la laguna è il riflesso del tuo cuore Dove la memoria è la fiamma dell'amore Rai Nai 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 Grazie.